ciao a tutti oggi prepareremo le fave in umido il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e 30 minuti circa gli ingredienti sono cipolla carote prezzemolo basilico olio evo pomodorini pepe nero sale dado vegetale fave secche e acqua diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le carote il sedano e la cipolla il prezzemolo e basilico dei pomodorini ed azionare il bimbi per sette secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere l'olio pepe e il sale ed azionare il bimbi per cinque minuti 120 gradi velocità 1 aggiungere le fave il dado e l'acqua e cuocere con il cestello al posto del misurino per 50 minuti 100 gradi anti orario velocità soft le fave sono cotte impiattare e servire fave in umido grazie e alla prossima ricetta e alla prossima ricetta grazie grazie grazie